Ciao a tutti, qual è il mio futuro con questa persona? In questo video voglio fare una lettura interattiva affinché tu possa capire qual è il tuo futuro con questa persona. Quindi quello che devi fare è scegliere un colore, o rosso, o nero, o blu, e questo colore poi, diciamo, diventerà il colore della tua scelta del mazzo, della stesa. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e se non è ancora fatta, abbonati al canale. Abbonati al canale potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande. Bene, allora, partiamo con chi ha scelto il colore rosso. Quindi momentaneamente togliamo gli altri due colori, il nero e il blu, e veniamo al rosso. Quindi, che futuro con questa persona? Beh, diciamo che in questa persona il futuro è prevalentemente manipolativo, se vogliamo, anche se non completamente la manipolazione a livello sessuale, quindi una relazione che tende a prodursi più su un piano fisico, un piano sessuale, che su altri, altri piani. E continua sempre, continua sempre a venire fuori i bastoni, questo anche, l'asso di bastoni rappresenta un po' l'onanismo, rappresenta un po', diciamo, desideri che si sviluppano in una certa modalità, molto introiettata, diciamo, da questo punto di vista. I sentimenti un po' possono manifestarsi, comunque possono nascere, non è che sono completamente esclusi i sentimenti dall'ambito di questa relazione, anzi, si possono manifestare. Ma rispetto alla personalità, anche talvolta trasgressiva, perché poi il 3, come sappiamo, è un numero anche molto trasgressivo, quindi ci possono essere anche delle grosse trasgressioni da questo punto di vista. E per questo probabilmente non c'è neanche un giudizio positivo da parte degli altri, ma ovviamente te ne devi altamente fregare del giudizio altrui. Ci potrà essere qualche, diciamo, puntura di spina, ma andiamo avanti, proprio i bastoni sono predominanti, quindi il futuro con questa persona tenderà a esaurirsi con la personalità. Finita la personalità non resterà più niente, quindi tutto quello che c'è con questa persona è più che altro l'aspetto passionale, è che quello è manifesto, ma non ci sono altre grosse possibilità. E veniamo a chi ha fatto la scelta nera. Che futuro ci sarà con questa persona? Beh, un futuro di amore, non proprio però all'ennesima potenza. Il rischio è un po' quello della partita di tempo. Diciamo che la partita di tempo è un po' quello che si annida e quindi è prevista, come vediamo, una bella rottura. Quindi questo non ci sarà un futuro, diciamo, non sarà l'amore della tua vita, ci sarà una rottura. Questa rottura potrebbe essere dovuta ai soldi, potrebbe essere dovuta alle coppe, cioè a un amore non sviluppato, ma probabilmente le motivazioni possono essere prevalentemente legate al denaro o anche al tradimento. Quindi capiterà qualcosa di strano. Comunque il futuro, questa coppia, devo dire che non ci sarà, cioè non c'è futuro, è una relazione che si esaurirà. I tempi di esaurimento sono anche abbastanza brevi, non vedo esaurimento in tempi lunghi. Quindi è una relazione destinata comunque alla chiusura, alla fine. E veniamo al terzo. Una terza scelta che è la scelta blu, perché ho scelto il colore blu. Che futuro ci sarà? Un futuro di tradimenti, possibile. Tradimenti legati alla sfera sessuale, alla passionalità. Continua, una passionalità vissuta in modo anche molto manipolativo. Anche se hai fortuna, diciamo, nel vivere questa relazione, però è una fortuna che non si sviluppa totalmente, non si sviluppa completamente, e resta un po' castrata, diciamo, in diverse azioni. C'è un'immaturità anche da un punto di vista mentale, logico e razionale, una persona comunque tendenzialmente che tende ad essere un po' fredda, un po' algida, un po' bloccata da questo punto di vista. Però il che non ti impedisce di costruire una relazione anche con questa persona. Potresti, visto che tutte le altre carte che sono andate fuori, costruire anche un'unione, un'unione che potrebbe essere anche solida. Sono le relazioni che poi però, basate poi sul tradimento. Qua vengono tutte le carte con un tradimento, una possibile ripartita. Voglio vedere, andando un po' avanti, visto che c'è stata quella carta dell'unione, alla fine ci sarà di nuovo, giustamente, un forte cambiamento. È una scelta solitaria. Ecco, quindi, le previsioni, ecco, quindi poi sta a te vedere cosa fare, sarebbero quelle di, lasciando andare gli eventi come vanno, creare un'unione senza solide basi, il che porterà ai grossi cambiamenti, di fatto a una rottura e un periodo di solitudine. Un periodo di solitudine con delle forze anche ostili, ostacolanti, dei fastidi che verranno fuori. È un, diciamo, una chiusura non indegna, di cui vedrai che non verrà fatta, non sarà stata fatta giustizia nei tuoi confronti. Quindi, in questo caso, è molto meglio evitare di fare, diciamo, di prendersi degli impegni con questa persona, perché sarebbero degli impegni che non porterebbero da nessuna parte. Bene, se il video ti è piaciuto metti un like, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. E ti ricordo che sul canale è disponibile il servizio abbonamento. Se ti abbonerai, potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande, in apposite live. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!